Sono qui per invitarvi al Teatro Sala Umberto dal 23 di settembre per questa commedia che nel 2013 ha vinto il Tony Award come il migliore commedia dell'anno. È passata dall'Off-Broadway a Broadway, quindi è stato un grande successo negli Stati Uniti, speriamo lo stesso sia qui. Vania e Sonia e Masha e Spike, regia di Patrick Rossi Castaldi e io sono Masha, la cattiva della situazione. Quindi attenti a voi, vi aspettiamo a Teatro. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.